occasione per riportarsi in vantaggio per il piné parte manuel fontana calcia e la rete 2 a 1 piné simone agostini sul punto di battuta aspetta il fischio dell'arbitro che arriva adesso parte barriera piena ci prova ancora simone agostini la posizione più ravvicinata parte il tiro mamma mia che rete altra chance concessa al numero 10 da parte del piné parte la battuta barriera piena la palla rimane lì dal soso controlla tiro ma era fuori gioco grazie